buonasera buonasera benvenuti a questa nuova puntata del tg consapevole diamo la linea ai servizi del giorno papa francesco di ritorno dal viaggio della colombia rispondendo a chi gli chiedeva un parere sui leader politici che negano la responsabilità dell'uomo sul cambiamento climatico risponde chi nega questo deve chiedere agli scienziati che sono chiarissimi e precisi la recente notizia della nave russa che è andata dalla norvegia al giappone attraverso il polo nord senza trovare ghiaccio è un messaggio molto chiaro è uscita poi una notizia che diceva che abbiamo solo tre anni per tornare indietro non so dire se sia vero che abbiamo solo tre anni ma è vero che se non torniamo indietro andiamo giù del cambiamento climatico si vedono gli effetti gli scienziati indicano la strada da seguire tutti noi abbiamo una responsabilità ognuno è una gocciolina ha una responsabilità morale occorre ascoltare e prendere decisioni la posizione più corretta circa l'argomento del cambiamento climatico è quella dell'equilibrio ma equilibrio non significa hanno ragione un po licenziati e un po complottite assolutamente no bisogna a fare affidamento alla scienza senza se e senza ma soprattutto quando quasi l'intera comunità scientifica va in una direzione è chiaro che l'uomo ha un'influenza sui cambiamenti climatici però ciò non ci deve far dimenticare che i cambiamenti climatici avverrebbero si manifesterebbero comunque sono sempre esistiti anche in assenza di uomo questo non vuol dire però che dobbiamo noi anticipare un cambiamento climatico a noi ostile se è possibile quindi sicuramente arriveranno glaciazioni fa qualche milione di anni fa centinaia di migliaia di anni ma se possiamo adoperarsi per rendere il mondo un posto vivibile per noi probabilmente quella la strada è migliore perché non bisogna dimenticarsi che la natura ha il suo corso indipendentemente da noi questo è molto importante capire molto importante comprenderlo quello che però voglio dire al papa e mi permetto di rivolgermi al papa perché io sicuramente non ho alcuna reverenza nei confronti del rappresentante della chiesa cattolica perché è un essere umano come tutti non si capisce qual è il suo problema nel senso lui porta avanti una dottrina che afferma che questa vita non è nient'altro che una parentesi la vera vita avviene dopo quindi anche se il clima diventasse insostenibile per colpa dell'uomo e tutti fossimo destinati all'estinzione quale sarebbe il male andremo tutti nella casa del signore qui non si capisce per quale motivo il papa interviene in un qualcosa che in ogni caso non muta il destino dell'uomo il destino dell'uomo non è la vera vita che è quella dopo questa realtà terrena quindi estinzione o meno ci aspetta tutti la salvezza almeno se abbiamo creduto in cristo ci siamo pentiti questo ovviamente secondo la dottrina cattolica quindi non capisco quale sarebbe il problema per il papa se la razza umana giunge alla sua estensione non credo che l'uomo sia così potente da porre fine alla vita dell'intera razza umana se dio non vuole in ogni caso mi piacerebbe che il papa si spiegasse meglio su questo argomento ma al tempo roma sfottò in rete contro virginia raggi il web non dimentica i tweet di virginia raggi e di altri esponenti del movimento 5 stelle risalenti al periodo in cui sindaco di roma era ignazio marino la raggi twittava roma domani piove gonfiate i gommoni mentre sempre nel 2015 di battista scriveva piove un giorno e roma diventa la città più invivibile d'europa sottomarino dimettiti sono passati due anni ma la situazione resta la stessa il movimento 5 stelle fa i conti con la realtà non è una critica la mia personale a virginia raggi è un problema dell'intero movimento è facile attaccare qualcuno quando si ha l'opposizione è facile parlare come se le soluzioni fossero facili poi quando si diventa sindaci quando si ha il potere si scopre che magicamente non è facile risolvere ciò che affligge una città ed ecco che a due anni di distanza si presentano gli stessi problemi marino poi due anni fa non riusciva a fronteggiare al meglio l'emergenza pioggia ma non ci riesce neanche adesso la raggi poi perché è un problema difficile e quindi è facile parlare quando non si è diciamo con le mani in pasta e per quanto riguarda il resto questo è un problema generale del movimento 5 stelle perché al di là della praticità delle soluzioni ai problemi ultimamente ha avuto problemi anche per quanto riguarda la trasparenza e l'onestà perché è chiaro che i reati di cui sono imputati alcuni rappresentanti di movimento 5 stelle tra cui le raggi magari sono meno gravi di reati in cui sono imputati altri partiti si parla in certi altri casi di mafia collusione con la mafia sono piccolezze in confronto quelle che riguardano il movimento 5 stelle però quando tu fai del tuo movimento ti rimballa la bandiera dell'onestà della trasparenza e poi cade in certe cose è chiaro che ti fanno le pulci e quindi il movimento 5 stelle alla prova dei fatti in quelle poche realtà in cui si stanno provando i loro rappresentanti ha delle lacune forte sia per quanto riguarda i risultati pratici sia per quanto riguarda la trasparenza e l'onestà per sfilare sono arrivato a pesare 47 chili per un metro e 78 di altezza mangiando tre mele al giorno a denuncia dell'ex modella victor d'Auxterre e l'ho rimasta senza capelli e senza calcio nelle ossa per lo shooting la 40 può andare ma per le sfilate bisogna stare nella 36 38 quello che occorrerebbe comprendere è che magrezza non è affatto sinonimo di bellezza e invece molte donne molte ragazze soprattutto le giovanissime sono davvero convinte che più magre si è più belle si è invece non soltanto se raggiungi certi pesi o sceni hai problemi di salute perché qualcuna potrebbe pensare vabbè avrò problemi di salute ma sarò bella no hai problemi di salute rischi la vita ma sei anche brutta essere troppo magre significa essere brutte mamma uccisa da un asteroide in giardino polemiche sullo spot pubblicitario che va in onda in televisione del buondì motta un tavolo imbandito in giardino una bambina che sorride una madre che ad un certo punto viene colpita da un meteorite fa discutere la pubblicità delle notte a merendina davvero grottesco che si inneschi un polverone per uno spot del genere davanti a uno spot di questo tipo occorrerebbe soltanto sorridere tra l'altro l'intento è stato pienamente soddisfatto perché chi ha ideato questo spot voleva proprio creare polverone voleva proprio creare polemica non è che la pubblicità è sfuggita di mano a chi l'ha ideata era proprio questo l'obiettivo che si doveva raggiungere infatti adesso parlano tutti di quella merendina e quei pochi che non la riconoscevano ora sanno bene come si chiama più in generale voglio anche dire che la violenza ciò che è diseducativo non sta soltanto in un meteorite che ammazza qualcuno in una sparatoria in un corpo morto no la violenza e ciò che è diseducativo sta anche soprattutto nell'ignoranza nella mentalità chiusa nel bigottismo tante cose che sono veramente all'ordine del giorno oggigiorno ovunque nonostante ci si vanta di essere in un'epoca moderna ma in certi aspetti in troppi purtroppo siamo ancora in periodi pre medioevali neanche medievale e anche per oggi è tutto ci vediamo domani alle ore 20 vi ricordo 10 consapevole ogni sera alle ore 8 è tutto